Bevi. C'è un buco nella maschera. Dopo l'abbiamo vizzicano. Vabbè, vai in macchina, Marinella, e non rompere. Che ci faccio io qui? Il Paese delle Meraviglie. Sarà qui. Questo perché? Partecipiamo? Alla selezione al Paese delle Meraviglie. Ecco, ci manca questa stronzata. Qui sono anni e anni che non siamo mai più niente. Forse così si crea un po' di lavoro, viene un po' di turismo. Ma noi ce l'abbiamo, un lavoro bellissimo. Che pensi? Vuole fare la contadina? Eh? Perché no? Vuoi costruire un muro intorno a lei? Che bella. Meraviglioso. Un applauso. Grazie. 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 Grazie.